. Albano, Romina? Siamo come fratello e sorella. E lei prova a baciarlo dietro le quinte dell'anno che verrà . Albano Carrisi e Romina Power. Che rapporto cè tra i due oggi che si sono esibiti all'anno che verrà, in onda a cavallo tra il 2017 e il 2018 su Rai 1. Albano parla del rapporto con Romina e di Tevoice. Il cantante di Cellino San Marco, intervistato dal Corriere della Sera, torna a parlare del primo, e grande, amore della sua vita. Artisticamente non è cambiato nulla. E di persona? Sono cambiate le circonferenze. . Entrambi abbiamo qualche chilo in più. . Nei sentimenti? Siamo come fratello e sorella. . Sono circa 20 anni che non stiamo assieme ma abbiamo attraversato il brutto e il bello della vita. . Adesso c'è un rispetto speciale fra noi. . Nonostante l'abuso di gossip la gente ci ama ancora per l'essenza. . Per abuso cosa intende? Mi dedicano 4-5 copertine alla settimana. Un giornale dice una bugia, un altro la cavalca. . Li muove il dio denaro. . Quindi conferma l'addio alle scene, farò il giudice a te voice, ci sono i concerti, ma il 1 grado gennaio 2019 appendo il microfono a una cornice. . . L'ho già fatta costruire. . Non lo faccio con gioia ma con l'intelligenza dettata dal rapporto con la mia salute. . Romina Power bacia al banno dietro le quinte dell'anno che verrà foto. . A Storie Italiane, in onda mercoledì 3 gennaio su Rai 1 con Eleonora Daniele, è stato mostrato un dietro le quinte dell'anno che verrà in cui Romina si avvicina ad Albano e gli dice con il sorriso, stavi venendo da me e a baciarmi. . . Te voice off Italy dal 20 marzo 2018 su Rai 2, Cast. . . Da martedì 20 marzo, dopo un paio d'anni, ritorna con otto puntate, Te voice off Italy. . . Ancora quattro i giudici, tra loro l'unica conferma è al momento quella di Lungax. . Ma anche Albano ribadisce che ci sarà. . Conduce Costantino della Gerardesca. . .